Signori, bentornati in un nuovo video flash. Buone, anzi ottime notizie per gli appassionati del TCG di One Piece. Finalmente anche il gioco di carte collezionabili basato sul capolavoro del maestro Oda è stato preso in carico dal punto di riferimento mondiale per quanto riguarda la compravendita di carte singole e affini. E così finalmente ogni pirata potrà reperire le carte che gli serviranno per completare un deck o semplicemente per pura collezione, avendo un punto di riferimento certo che fino ad ora era rappresentato dalle piattaforme Ebay e Vinted e dalla pagina Facebook One Piece Station. Per quest'ultimo vi lascerò il link in descrizione. In più, come è stato per Flash & Blood al tempo, finalmente i prezzi verranno calmierati profilando un andamento di mercato netto riguardante ogni singola carta presente in questo GCC. Quindi per tutti coloro che andavano cercando carte singole ma anche starter deck, classic o super pre-release, dato che su Car Market di certo non mancheranno tali articoli, la piattaforma web più conosciuta al mondo nel settore offrirà loro un valido punto di arrivo che consentirà praticamente a tutti di recuperare elementi utili atti a soddisfare il proprio stile di gioco. In descrizione vi lascerò il link al sito del market già impostato sulla sezione One Piece TCG, così che vi basterà solamente cliccare e procedere alla ricerca che vi porterà di seguito ad arricchire la vostra collezione personale. E voi, utilizzerete questo ulteriore mezzo di scambio per reperire o vendere i pezzi che vi consentiranno di diventare re dei pirati? Come sempre fatemelo sapere nei commenti, inoltre iscrivetevi al canale e seguitemi anche su Instagram e TikTok se vorrete scoprire altre notizie provenienti dal crogiolo.